Dopo il provvedimento assunto dalla regione Umbria che autorizza l'uso del combustibile solido secondario da parte delle cementerie Eugubine, Colace e Barbetti, il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e la vice sindaca e assessora all'ambiente Alessia Tasso ribadiscono come la posizione dell'amministrazione del Consiglio Comunale sulla vicenda sia nota e chiara. Tra i vari punti fermi c'era quello della necessità di una valutazione di impatto ambientale che oggi con questo atto amministrativo viene completamente accantonata. Stiamo comunque facendo tutti gli approfondimenti giuridico-amministrativi del caso, scrive il Comune nella nota, essendo anche stata manifestata da più parti la necessità di capire come questo provvedimento si collochi nel contesto della transizione ecologica verso il 2030. Qual è la visione che si cela dietro a questo provvedimento della regione, chiede il Comune, sembrerebbe un'esigenza aziendale ma con un respiro corto rispetto agli scenari, prospettati dall'Europa. Per quanto riguarda salute e ambiente, assolutamente cruciali, conclude il comunicato, ricordiamo ai cittadini che le rilevazioni in atto sulla qualità dell'aria, in virtù del rapporto di collaborazione istituito con la Sapienza e il CNR di Roma, daranno un primo riscontro trimestrale nei prossimi giorni. Intanto i comitati che si oppongono al provvedimento sono già pronti a scendere in piazza. L'appuntamento è per giovedì 9 alle 10 davanti alle cementerie.